Ciao ragazzi da Vittorio, ci siamo. Il contratto per Maurizio Sarri alla Lazio è pronto, mancano solo le firme di Lotito e di Maurizio Sarri, firme che potrebbero arrivare in giornata oppure domani. Non c'è più fretta ormai perché l'accordo totale c'è, l'accordo economico, l'accordo del calciomercato, quindi ormai mancano solo le firme e possiamo dire che ormai è fatta per Maurizio Sarri alla Lazio. Come ho detto ieri, parliamo di due anni di contratto a 3.300.000 più un bonus per la qualificazione per la Champions League che dovrebbe arrivare a quattro anni, quindi due anni di contratto, non tre, come dice qualcuno, con l'opzione per il terzo anno. E non credete a quelli che dicono che ha firmato martedì, ieri o l'altro ieri, Maurizio Sarri non ha ancora firmato, anche perché ieri il suo agento Ramadani e Tari si sono incontrati appunto per questo, per mettere a punto gli ultimi dettagli per il contratto e quindi se uno si riunisce il sabato non può aver firmato il contratto venerdì o giovedì o martedì. Ieri è stato redatto il contratto, oggi è stato concluso e quindi adesso mancano solo le firme. E soprattutto Sarri ha avuto la garanzia che dovrebbe far contento tutti i tifosi della Lazio, ovvero quella che la Lazio farà un mercato da protagonista. Non ci aspettiamo nomi clamorosi, non ci aspettiamo un mercato da 100 milioni di euro, ma sicuramente la Lazio farà un mercato dignitoso, meglio degli altri anni, secondo le direttive di Maurizio Sarri. Questa forse è la novità più importante, se prima era Tare che era abbastanza libero di fare mercato, adesso Tare dovrà ascoltare le direttive di Maurizio Sarri. E che dire ragazzi, questo è il colpo migliore dell'era Lotito, possiamo dirlo senza grandi dubbi. È un colpo che riporta la Lazio quasi all'epoca di Cragnotti, quando ogni anno la Lazio faceva un colpo di mercato clamoroso. Maurizio Sarri non è un giocatore, però è un allenatore top, un allenatore che dopo l'errore della Juventus non vuole più sbagliare, per questo ha chiesto garanzie importanti alla Lazio, per questo vuole una squadra da 4 di 3 e vuole un mercato come vuole lui. E quindi queste sono garanzie che devono fare sicuramente contenti i tifosi della Lazio, perché sarà un mercato importante per la Lazio e poi sarà fondamentale il ritiro per permettere a Sarri di impiantare il proprio sistema di gioco e vedere Sarri Ball, come lo chiamavano a Chelsea, alla Lazio. E direi che è un'estate che sembrava drammatica con l'addio di Simone Zaghi e adesso si potrebbe tramutare in veramente qualcosa di eccezionale, perché con Sarri veramente la Lazio cambia e da Scenerentola può diventare una delle migliori squadre nel calcio italiano. Adesso ovvio non dico che si lotterà per lo scudetto, però direi che il traguardo minimo è la Champions e finalmente la Lazio potrebbe combattere ad armi pari e non costringendo a fare miracoli tutte le domeniche. Mancano le firme, però ormai ci siamo. Maurizio Sarri alla Lazio.